Come antipasto del ROF 2023 in programma d'agosto, dalle 3 al 17 luglio, l'Accademia Rossignana Alberto Zedda allarga i suoi orizzonti, offrendo per la 35esima edizione del Festival Giovane l'opportunità di un seminario sull'interpretazione di Gioacchino Rossini. Due settimane di lezioni di interpretazione vocale e masterclass che riuniranno 21 studenti provenienti da tutto il mondo. Questa è la più numerosa. Normalmente, come ho detto in conferenza, prima erano 18, poi sono passati 19 e quest'anno ne avremo 21. Per cui abbiamo più allievi e questo grazie anche allo sponsor, la Fondazione Mauccia Severi, che dall'anno scorso ci aiuta in questo lavoro. Sono consigli buoni, molte masterclass, come hai detto, ma dopo molti concerti, per cui si fa sulla pratica, proprio vedere come hanno assorbito questi consigli che durante due settimane facciamo qui. L'Accademia Rossignana è una parte integrante ormai da 37 anni dell'attività del ROF, è un'Accademia tra i più importanti del mondo, non solo per il livello dell'insegnamento, è molto ambita, soprattutto perché permette di debuttare immediatamente nel mondo professionistico, attraverso il concerto finale della Rossignana Professione, attraverso i due appuntamenti del Viaggio a Reims, che sono storicamente in cartellone e in cui sono protagonisti proprio i ragazzi dell'Accademia Rossignana. Detto questo, il loro protagonismo non si ferma qua perché poi vengono coinvolti negli appuntamenti che abbiamo all'estero, negli ambasciati, istituti di cultura, nei teatri, in occasione in cui Rossignana Professione e anche Pesano si promuovono coinvolgendo sempre i ragazzi dell'Accademia. E da qualche anno ci sono anche altre novità, i concerti dal balcone, a cui siamo abituati, affezionati, si vedono appunto come protagonisti proprio da requisito, è un vero e proprio test, diciamo, un vero e proprio esame tra gli altri previsti dell'Accademia che si esibiscono i ragazzi dal balcone. E da tre anni c'è questa novità anche dei Salon Rossini, che ci servono anche a condividere un po' lo spirito del festival con il territorio, a partire da comuni e città della nostra provincia, che hanno una tradizione importante, sia dal punto di vista musicale o teatrale e anche dal punto di vista, diciamo, delle bellezze architettoniche. Scoprire Rossini a 360 gradi, svelandolo in ogni sfumatura, concetto o nota, è l'aspirazione inseguita dall'Accademia Rossiniana. Diciamo la verità, Rossini ancora oggi è molto poco conosciuto. Normalmente si conoscono le opere buffe, tipo Barbieri e Cenerentola italiana, e invece Rossini ha scritto 39 di opere e nel Rossini serio è dove lui raggiunge livelli altissimi. Per cui grazie al ROF, che insomma è iniziato nel 1980, che si sono conosciuti tanti altri titoli. E l'ultimo, diciamo, che si presenta Edoardo e Cristina, quest'anno hanno fatto l'edizione critica e noi la presentiamo come abbiamo fatto con tutte le altre opere che la Fondazione Rossini ci ha passato.